Ciao a tutti, benvenuti su Fairy ASMR, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR dedicato al vostro rilassamento, vi consiglio come al solito di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltarlo perché utilizzerò questo tono di voce sussurrato per i prossimi minuti, spero sia di vostro gradimento mi raccomando se il video vi piace non dimenticate di farmelo sapere lasciando un mi piace e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi attivando la campanella per non perdere i prossimi caricamenti tutti rilassanti questo video sarà dedicato alla cosmesi biologica, so che è un argomento che appassiona moltissimi di voi comunque se anche non dovesse interessarvi utilizzatelo per addormentarvi lasciandomi guidare dalla mia voce voglio mostrarvi infatti alcuni prodotti interessanti, alcuni dei quali sono stati acquistati da me e altri dei quali ho ricevuto durante la mia partecipazione al sana o c'è jessi comunque mettetevi comodi perché stiamo per iniziare eccoci sullo sfondo c'è jessi che si legga ma vabbè vita quotidiana nel caso ve lo stiate chiedendo la maglietta che ho indosso e che vi mostro meglio qui a bianco ma della quale ho già postato una foto su instagram è come al solito di pampling e trovate giù in descrizione il link per acquistarne una uguale alla mia e il codice affiliato e il vetti lo c'ho scritto anche qui con il quale potrete ottenere uno scotto in fase d'acquisto dicevamo partiamo da due prodotti che appunto ho acquistato personalmente non mi ricordo se vi avevo già anticipato qualcosa forse vi avevo mostrato il packaging in un video precedente a questo comunque adesso li sto utilizzando da un po' di tempo quindi posso proprio parlarvene uno è questo il vasetto di crema biologica idrotante dei provenzali alla rosa moscheta allora intanto il tapping sul vetro è estremamente rilassato pensate delicato allora qui c'è scritto formula leggera e bellotata pelle normali e miste è una crema iso che ti vuoi 4 ore quindi adatta sia per il giorno che per la notte confermo allora il profumo è spaziale questa crema ha una delle profumazioni migliori che abbia mai sentito in vita mia questo è l'aspetto non voglio mostrarvi la consistenza perché questo tipo di packaging è più soggetto a contaminazione infatti ultimamente sto utilizzando una spatolina per prelevare il prodotto e non mi va tanto di bucciare il dito troppo spesso all'interno ma è una crema molto molto valida nutriente ma non eccessivamente grassa che si assorbe facilmente se avete una pelle molto secca la consiglio più come crema da giorno l'altro prodotto assolutamente approvato è di argalia trovato da pam e panorama infatti c'è scritto sotto argalia bio contorno occhi con olio di uova e avocado il packaging è questo qua il packaging è questo qua e c'è scritto con i ingredienti di origine naturale per oggi se li dobbiamo applicare una piccola unità di crema per il contorno occhi questo è un contorno occhi abbastanza nutriente vedete di facile assorbimento non lascia scia bianca e che però una volta asciutto dà anche un lievissimo effetto tensore e infatti lo preferisco per il giorno piuttosto che per la notte per la notte prediligo qualcosa di più corposo soprattutto perché tendo ad avere la zona del contorno degli occhi un po' secca e un po' stagnata quindi ho bisogno di parecchio nutrimento e idratazione comunque si trapiace e ve lo consiglio ma andiamo avanti al sana che cosa ho ricevuto? innanzitutto è stata un'esperienza bellissima e il primo giorno ho incontrato alcune ragazze che conosco tra cui Elenia di Papri Nermocromia Elenia Mistola il secondo giorno sono andata insieme a Sara di Sara J.S.M.R. e tra l'altro ho incontrato diverse persone che mi seguono tra cui Giulia che saluto e insomma diverse altre persone che mi hanno riconosciuta dunque io per correttezza vi mostrerò solo i prodotti delle aziende che mi hanno dato delle full size perché altrimenti dovremmo mostrarvi anche una quantità enorme infinita di campi ocelli allora la prima che vi faccio vedere è la vera cream idrocomplex che credo sia la linea idratante adoro adoro il suono delle bustine ho fatto anche un video che vi lascio qui linkato con tutti questi suoni se vi piacciono vi consiglio per lo vedere idro effetto effetto day cream organic algae and natural abyssinian oil bella faccio un po' di nodi pori ridi scherzo ridi 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 vedete questo è il packaging da 50 ml la proverò quest'altra crema a mani da 20 ml quindi formato più piccolo e altri due prodotti un mascara chissà che effetto avrà sono curiosa di provarlo ma in realtà devo prima finirne altri due non mi va di aprire troppe mascare contemporaneamente questa sfumatura dal blu profondo a nero e infine sempre di lavera Lush Care Serum cioè un serum per la cura delle ciglia e immagino la crescita insomma per fortificarle rinforza e rigenera la ciglia infatti a base di caffeina piro anche questo è molto interessante il prodotto il packaging vedete bianco perla poi la seconda azienda che mi ha omaggiato di un prodotto full size è stata HAND acronimo di Have a nice day questa è un'azienda molto molto interessante con la quale mi piacerebbe collaborare e questa è una maschera totalmente biologica si chiama Plumping Sheet Mask allora è una maschera in cellulosa per il viso ha un effetto rimpolpante un aroma fresco e fiorito praticamente mi hanno spiegato che si tratta di una maschera effetto filler e sono curiosi sì ma di provarla dice di pulire la pelle di applicare la maschera sul viso e lasciare in posa 10 minuti rimuovere la maschera e poi assaggiare il liquido rimasto fino a completo assorbimento curiosissima di provare anche questo poi vabbè giusto per darvi un'idea ho vari prodotti di più officina toscana cappiuccini e un pettino per i capelli questo è molto ASMR lo potrei utilizzare lo potrei utilizzare sul canale il legno vedete che carino c'è scritto più officina toscana con il logo ha detti larchi quindi non rovina i capelli che bello fatemi sapere se vi piace questo drinker anche alla saponaria sono stati come al solito molto gentili e mi hanno dato dei campioncini che sono raccolti in questa busta di carta VEGAP questo sacchetto sembra piacere molto a Jesse prima ci ho giocato con gli indiari comunque fatemi sapere se per caso avete provato qualcuno di questi prodotti e quale tra quelli che vi ho mostrato presi al sana vi incuriosisce di più e noi ci vediamo come al solito se vi va al prossimo video se volete rimanere con me vi lascio dei video che potrete vedere qui nella schermata finale che magari possono interessarvi per continuare a rilassarvi un po' e per adesso intanto pacificatore ci vediamo ci vediamo Grazie a tutti